FONI FILFONI Festival, tanti gli ospiti internazionali attesi oggi, uno del mondo della musica, il cantante Mika e poi invece un ospite internazionale del mondo del cinema, l'attore Nicholas Holt che molti ricordano per il ruolo in X-Men e nell'ultimo film Mad Max Fury Road. Ma adesso vediamo i fans. FONI FILFONI Noi, nessuno dei due ha accompagnato le mie amiche. E' l'accompagnatore con l'auto. Non importa niente. Tu invece Mika. Sì, sto qua da ieri alle 7. Da ieri sera alle 7? Quindi questo immagino è ancora. Eh, si spera. Quale album vi è piaciuto di più di Mika? Quale canzone vi è rimasta di più nel cuore? Oddio, tutti In realtà ogni album ha un messaggio diverso Per questo è difficile, per me è difficile sceglierne uno Ciao amica Se non ti fermi qua, sto aspettando la stamattina Solo a te, mannaggia la miseria